Musica Allora, buonasera a tutti e un caloroso saluto a tutti quanti i video spettatori di Liberi TV Io sono il sindaco di Terranova da Siberi, è un piacere poter parlare con voi e dirvi un po' dell'organizzazione degli eventi d'estate 2018 qui nel nostro paese Intanto stasera partiamo, che è il 4 di agosto, partiamo con una bellissima manifestazione, Terranova Ribelle, che è la sua quarta edizione Abbiamo avuto e abbiamo anche proprio in questo momento, abbiamo un gruppo di muse del Mediterraneo, quindi di giovani e ragazze che stanno facendo musica popolare calabrese Abbiamo la piazza pienissima di gente, quindi è per noi un orgoglio aver potuto organizzare questa manifestazione Il calendario è ricchissimo, quindi ci sarà la possibilità per tutti quanti coloro che vorranno venire qui a Terranova Di poter godere un'estate bellissima, all'insegna appunto della scoperta enogastronomica, quindi delle nostre peculiarità in questo senso qui Ma anche di visitare un po' il nostro borgo, la nostra cittadina, approfondire anche da un punto di vista storico, culturale, architettonico, tutte quante le bellezze che noi abbiamo Che dire, è un'estate particolare questa del 2018, quindi vi attendiamo qui a Terranova a braccia aperta Abbiamo ristoranti, abbiamo pub, la possibilità di offrire servizi su tutti quanti i settori Grazie a tutti voi Grazie a tutti